Ciao, in questo video andiamo a vedere come funziona il mio metodo ebook bass batteria prendendo una canzone facendone come esempio per il tuo studio. Allora innanzitutto devo dire che sul mio sito lo trovi anche in versione online cioè quella che funziona da browser, tu hai soltanto un link, apri Safari, apri Chrome e te lo vede come una pagina web, quindi lo vedi esattamente così. Io adesso sto utilizzando quello, altrimenti c'è quello in versione formato ePub che ti puoi scaricare e mettere su un tablet o su un cellulare, meglio sul tablet perché è sempre a due pagine. Allora qua vedi la parte iniziale dove spiego come andare a studiare e poi si entra subito nelle canzoni, si prendono il riff principale di una canzone. Ad esempio prendiamo questa Kamezuar dei Nirvana. Qua sotto hai il video dove spiego a leggere le note, le posizioni, il ritmo, lo suoniamo insieme. Quindi per ogni canzone hai sempre un video completo. Qua abbiamo molto importante la batteria, cioè DM1, una batteria elettronica programmabile in cui possiamo andare a vedere bene soprattutto cosa fa la cassa ma anche cosa fanno le altre parti della batteria. Questo perché? Perché il basso deve andare a incastrarsi nella maniera migliore possibile. Il basso e la batteria devono sempre andare più insieme possibile, soprattutto questo con la cassa. Se tu individui la parte di cassa poi riesci a suonarci sopra. Quindi tu fai partire... Tutte le videate poi sono espandibili, quindi adesso le vedi piccoline ma puoi farle poi a piena pagina. Qua sopra c'è la partitura con la tab. Sono sempre poche battute, due, quattro, massimo otto battute perché così riesci a creare un loop, esercitarti e migliorare su quello. Qua sopra in alto abbiamo due audio. Cioè quando io studio devo avere la possibilità di rallentare, quindi partire più lento per poi portarlo alla velocità originale della canzone. Infatti in ogni esercizio vengono sempre proposte due velocità. Prima a 105 e la seconda a 120. Una volta che sai il pezzo, quindi puoi mandarlo avanti e vedrai che nell'audio i primi due giri sono con il basso. Poi il basso sparisce e ti lascia continuare a esercitare. Un'altra cosa importante secondo me è che la base duri tanto perché se dura solo il giro del riff e poi si ferma, io per esercitarmi devo andarmi a cercare un'altra soluzione. Invece qua la soluzione è tutta integrata. Tu fai partire e lui va avanti per qualche minuto e sai che puoi esercitarti a loop. Sentiamo ad esempio quella rallentata a 105. Quindi all'inizio sentirai il basso. Tu ci puoi già suonare sopra. Dopo qualche giro il basso sparisce. Facci caso. E qua sei scoperto. Devi suonare con il basso. Eccetera eccetera. Quindi come senti va avanti diversi minuti. Secondo me questa cosa è importante. Ci sono tante canzoni. Il riff principale delle canzoni non c'è tutta la canzone. Questo perché voglio farti concentrare proprio su quello che fa la batteria e quello che dobbiamo fare con il basso e come incastrarci insieme. L'uomo più furbo. Gazze. Whatsapp. For non blonde. Vedi che è comunque la lettura ritmica. Man mano che andiamo su diventa sempre più difficile. Però c'è sempre il video in cui io te la spiego e la suoniamo insieme lenta. Police. Solonni. Queen. Vietato morire. Hermal Meta. Molto interessante e divertente questa. Shape of You di Ed Sheeran. Creep. Under the Bridge. Un po' dei red hot. Gabbani tra le granite e le granate. Anche qua è carina. Ci sono alcuni brani pop italiani perché è bello l'incastro che c'è tra il basso e la batteria. Beatles. Non possono mancare. Zucchero. La Grange. Proud Mary. Final Countdown. Mitica. Pezzo di me Levante. Anche questa è divertentissima. Wish You Rear. Pin Floyd. Un po' più elaborata con degli obbligati. Gli spari sopra il vivasco. Tosta. Però suonata in maniera un po' semplificata. Wall Lotta Love. Le Zeppelin. E qua finisce il metodo. Qua puoi vedere gli altri miei metodi. Ti ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Buon divertimento. Li trovi su www.carlochirio.com Trovi proprio una sezione ebook dove puoi avere tutte le informazioni e se vuoi acquistarle. Altrimenti nei vari digital store. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. A presto.